Angelo Bonelli ha annunciato che presenterà un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai dopo il caso di Filippo Facci. Il servizio pubblico aveva appena annunciato che il giornalista avrà un programma tutto suo su Rai 2. Quando sono scoppiate le polemiche per alcune affermazioni pubblicate sulla vicenda del figlio di La Russa pubblicate dal cronista. Un chiaro caso di vittimizzazione secondaria, che diversi esponenti dell'opposizione hanno evidenziato, affermando che Facci non possa stare in Rai. Dovremmo sentire queste volgarità dal servizio pubblico? Queste le domande che presenterò in un'interrogazione in Commissione di Vigilanza per chiedere come l'azienda Rai possa permettere che Filippo Facci possa condurre un programma sulla rete pubblica. Questa mattina anche il responsabile comunicazione del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, era intervenuto sulla vicenda. Conviene alla Rai. Al servizio pubblico affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così sul giornale. Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apash la russa. Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria? E che dice il Comitato Etico della Rai? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di Viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista.